Ciao ragazzi e benvenuti! Questo è l'ultimo video potteriano per la stagione 2017-2018. Ebbene sì, è passato un altro anno assieme, sono sempre qui, credo di essere stato abbastanza costante, avrò toppato sì e no uno o due video in tutto l'anno, quindi ragazzi spero che appreziate il mio impegno e come vi prometto ormai da mesi, l'ultimo video sarebbe stato quello della collezione aggiornata al 2018. Quindi eccoci qui, ragazzi davvero non so come fare questo video perché la collezione è cresciuta a dismisura, c'è un'intera libreria in più, ci sono i Funko Pop, c'è davvero tantissima roba, ma direi di non perdere ancora tempo e cominciare. Intanto qui alla mia sinistra ecco che potete vedere la tazza che ho acquistato qualche anno fa al tour di Harry Potter a Londra, ai Warner Bros Studio Tour, che io ho riempito con tutte le varie bacchette che ho acquistato durante il primo anno e mezzo di lavoro qui sul canale e sono tutte le bacchette che provengono praticamente da AliExpress e qualcuna me l'avete regalata voi. Ma andando subito avanti ecco che alla mia destra troviamo le novità più grosse di questo 2018 perché quest'anno sono usciti molti giochi da tavola interattivi di Harry Potter e il primo è questo qui, il primo che ho acquistato, è il Trivial Pursuit di Harry Potter edito da Hasbro che ho trovato da GameStop. Per un periodo è stato praticamente introvabile, adesso si trova facilmente su giocando.it. Giocando è il sito che mi ha inviato qualche settimana fa questa versione italiana del Cluedo. Io vi lascerò il link nelle schede in alto a questo video dove parlo di questo gioco che è molto molto carino e sul loro sito trovate sia questo che questo qui. Ma andando ancora avanti ecco che troviamo una delle cose più belle che forse ho giunto alla collezione quest'anno e che mi ha inviato EMP Italia e si tratta degli Scacchi Magici. Un'intera scacchiera tutta dedicata al primo film di Harry Potter. All'interno sono contenuti due sacchetti con tutti i pezzi, il tabellone, davvero molto molto bella. Anche di questa trovate il video. Io vi lascerò direttamente la playlist a Harry Potter nelle schede che contiene oltre 150 video potteriani. Magari condividetela con i vostri amici. Ma da questo momento ragazzi dobbiamo cambiare postazione e cominciare un piccolo tour della camera. Quindi andiamo! Eccoci qui alla zona Funko Pop. Questa è la mensola che vedete spesso e volentieri alle mie spalle. Non si vede mai per intero però adesso vi mostro tutti i pop singolarmente. Spero che il video non venga troppo traballante. Cominciamo da Dobby che ho qui ma che io preferisco nella versione Mystery Mini perché è più proporzionato. Poi abbiamo il nostro Hagrid con l'ombrello. Abbiamo Thor sempre in versione Mystery Mini così come Nagini. Abbiamo poi Voldemort, Bellatrix e Lucius. E ancora andando avanti troviamo Albus Silente, Peter Minus. E poi abbiamo il nostro Severus Piton e il Molliccio in versione Severus Piton Nonna di Neville. Poi ancora un'altra accoppiata, il Lupo Mannaro e Remus. E ancora abbiamo anche il Dissenatore. Passando alla fila successiva troviamo Dolore Sunbridge, Malocchio Mudi. Poi abbiamo anche Sirius Black. Il nostro Cedric Diggory che tanto mi ha fatto penare così come le tre creature dietro di lui che finalmente ho recuperato. E la nostra Luna Lovegood versione San Diego Comic Con dell'anno scorso. Abbiamo anche Draco Malfoy, Fred e George. E ancora più in alto abbiamo invece i pop di Animali Fantastici con Serafina. E poi ancora Grindelwald con Graves. E il nostro Demigaius in versione regular e trasparente. E poi ancora lo Snaso, Queenie, Jacob. Poi Tina, Newt con Pickett e Lame Granit con la sua versione Animagus Gatto. E qui sopra i libri del Trono di Spade troviamo il Drago, il Testral e Leotordo. Quindi anche questi versione Misteri Mini. E poi andando ancora in alto di un piano troviamo Occami del San Diego Comic Con dell'anno scorso. E poi il Treno di Hogwarts, l'Espresso di Hogwarts con Sue Henry e Edvige versione Misteri Mini. Poi abbiamo Ron con Crosta Misteri Mini. Hermione con Grattastinkie Misteri Mini. E poi ancora Neville Pachock e la nostra Ginny Weasley. E adesso passiamo invece alla libreria che era presente anche l'anno scorso. Partiamo dalla parte superiore dove troviamo gli oggetti Noble Collection più grandi che sono la mappa del malandrino, l'uovo della prima prova del Torneo Tre Maghi. E poi abbiamo ancora la Fenice sul suo Trespolo, la spada di Grifondoro tagliacarte col supporto. E poi abbiamo anche il cappello parlante con le quattro penne delle quattro case di Hogwarts. E abbiamo anche infine lo snaso in resina che ho trovato nella versione speciale di Animali Fantastici dove trovarli in Blu-ray. E altri due oggetti che invece non sono Noble Collection ma sono fatti a mano. Uno è la mandragola che mi è stata portata da Luca dei miei amici Diana e Graziano. E l'altra invece è una Puffola Pygmea che ho acquistato a Etna Comics quest'estate. Invece scendendo di un piano ecco che troviamo un bel po' di oggetti relativi al Quidditch e qualche statuina. Intanto cominciamo con le statuine, quelle di De Agostini. Come vedrete sono molto molto meno rispetto all'anno scorso perché ho venduto la maggior parte di queste statuine tenendo solo quelle che più mi piacevano. Infatti ho ottenuto tutte le creature come il Testral, Fiero Becco, come il Troll di Montagna, il nostro Fuffi e poi qualche statuina come quella del trio in versione primo anno, Hagrid, Rita Skeeter, Voldemort e i Darsley con Dobby. Ma invece spostandoci un po' a sinistra troviamo il nostro asticello di Running Press che vi super consiglio e ragazzi vi dico già che troverete tutti i link agli oggetti che vi mostro sotto in info box qualora voleste acquistarli. Ancora accanto all'asticello troviamo sempre da Running Press il boccino d'oro e sotto troviamo invece il baule da Quidditch con le palle sempre da Running Press. e ancora anche la piccola Edvige dentro la gabbietta. Accanto troviamo invece il nostro tacquino del Makusa che trovai all'interno di una Loot Crate e ancora vi posso indicare i due orologi da taschino, un originale Loot Crate, l'altro invece di AliExpress e poi il Fidget Spinner boccino d'oro e accanto questa collana presa su EMP Italia con l'uovo della prima prova che si apre. Questa molto molto bella e ufficiale. Qui accanto ecco che invece troviamo delle spille di Loot Crate. Ma adesso andiamo ancora giù e qui troviamo ancora qualche altro oggetto Noble Collection e altre versioni di Harry. La prima che salta all'occhio è la Rock Candy di Harry con Edvige, sotto troviamo invece la Q-Fig di Harry e qui accanto invece troviamo la Mystery Mini di Harry col cappello parlante. Dietro invece la fiaschetta di Malottio Moo di Noble Collection dove è contenuta la pozione polisucco e qui il Carry On con il tema di Edvige. Davvero molto molto carina, trovate anche questa qui linkata. Dietro invece il Globo con Hogwarts che sorregge questa sfera con i dissenatori. Magari sposto questa così si può vedere un po' meglio. E accanto troviamo la Sfera della Profezia di Noble Collection, la Giratempo, il biglietto del binario 9 e 3 quarti che ho acquistato a Londra e dentro quella scatola che si tratta di una Loot Crate troviamo invece l'arazzo dei Black. Quello lo tengo lì dentro assieme alle cravate di Corvo Nero e Serpe Verde. E andiamo ancora giù di un altro piano e troviamo i Vinyl di Harry Potter e Hagrid. Questi presi su MP che trovate con sconto a circa 12 euro. Poi accanto la cioccorana, le tazze della burro birra, una bottiglia di burro birra e la confezione delle gelatine tutti gusti più uno, quasi tutte prese agli studi di Londra. Alle spalle dei Vinyl troviamo il contenitore con all'interno tutti i Wizys di Harry Potter dell'S Lunga che mi avete regalato, grazie mille, non saprò mai come sdebitarmi. E poi accanto troviamo tre collane di Aliexpress con la pozione d'amore, la Felix Felicis e il cuore con la freccia di Ron. E accanto ecco che troviamo tre edizioni Blu-ray, una contenente tutti i film della saga. Questa qui invece l'edizione pop-up di Animali Fantastici e questa qui la versione 3D di Animali Fantastici. E poi ancora sopra il mini cappello parlante di Running Press, molto carino, questo qui parla davvero. E la valigia di Newt, sempre di Running Press. Tutti questi video, ragazzi, li trovate sopra nel mio archivio, in info, trovate la raccolta di tutti i video potteriani. Sono oltre 150, quindi potete passarci l'intera estate praticamente. E andiamo adesso al piano inferiore che è l'ultimo di questa libreria e vediamo cosa c'è. I segnalibri di Noble Collection, questi qui dei sette Horcrux. Qui dietro troviamo diversi vari libri extracanonici come ad esempio il Lexicon, oppure troviamo la biografia di J.K. Rowling di Marina Lenti. E poi ad esempio abbiamo anche le versioni inglesi della Pietra Filosofale e dei Doni della Morte e poi anche di Cursed Child. Accanto sempre da Running Press abbiamo Nagini che sorregge la bacchetta di Voldemort che mi ha regalato mio fratello con la punta che si illumina. E poi il pensatoio molto molto bello, sempre di Running Press, che all'interno ha un diario a tema pensatoio con una bacchetta di Sambuco a penna e due ampolle come queste qui che troviamo stampate sul fronte e ancora questa tazza pozione polisucco che invece arriva da Primark. Ma quest'anno si è aggiunta anche un'ulteriore libreria più piccola che adesso andiamo ad esplorare. Ed eccoci qui ragazzi in questa nuova parte un po' traballante visto che tengo in mano la videocamera ma non avevo altro modo per farla. Intanto vorrei farvi notare questa qui che ancora resiste, Nox Lumos. Queste stampe che ho attaccato al mio interruttore della luce, ragazzi, questo video risale ai tempi della Bibbia. Davvero vecchissimo, solo i più fedeli se lo ricorderanno, fatemi sapere nei commenti. Ma ragazzi cominciamo con la nuova parte, questa qui è quella dedicata agli Horcrux dove ho inserito anche la lampada che mi ha inviato EMP e che ringrazio ancora tantissimo la lampada a boccino d'oro. E poi ragazzi ecco qui gli Horcrux, c'è anche Nagini che in realtà non avete ancora visto perché il video l'ho girato ma a questo punto uscirà a settembre però ve lo faccio vedere comunque. Ecco qui gli Horcrux, partiamo dalla coppa di tasso rosso di Noble Collection, molto molto bella. Poi Nagini che vi mostrerò meglio nel video dedicato. E abbiamo ancora il medaglione di Serpe Verde, questo qui non ufficiale, arriva da AliExpress ma arriverà anche quello ufficiale, state necetti. E poi abbiamo il diario di Tom Riddle che mi avete regalato voi, grazie mille ancora. E poi abbiamo l'anello Horcrux e alla fine qui sulla sinistra abbiamo il diadema di Corvo Nero che è davvero bellissimo ragazzi, sono sempre più contento di averlo preso. E questo è il mio angolino dedicato agli Horcrux, anche se sto pensando, ve lo dico in anteprima, di acquistare il set Lego di Hogwarts da 400€ e piazzarlo qua sopra. Magari me lo regalerò per il compleanno, non sono ancora certo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quel set. Ma andando giù di un piano anche qui, ecco che ragazzi troviamo il salvadanaio a forma di nottetempo, anche questo preso su MP ma non so se è ancora disponibile. Poi abbiamo la tazza che mi hanno inviato i ragazzi di Mini Big World Collectibles, vi lascio tutti i link sotto in infobox. E poi le tecchie con le creature, abbiamo il basilisco, abbiamo il nostro goblin della Gringot, il drago della prima prova con l'uovo, Edvige e il dissenatore, questa bellissima tazza che mi ha regalato Martina che viene da Primark, grazie mille Martina ancora per questo regalo. E poi troviamo le bacchette, questa qui è quella di Sambuco di Noble Collection che mi ha regalato Peppe e questa qui invece è la bacchetta di Newt Scamander che ho preso da GameStop. E poi abbiamo ancora Funko Pop, in questo caso ragazzi le basette sono impolverate, devo spolverarle, non ho avuto il tempo. E troviamo quello del San Diego Comic Con dell'anno scorso, Enrico il Boccino, poi abbiamo Ron e Ginny e poi anche Draco. Qui accanto invece abbiamo il set di tutti i film di Harry Potter che mi ha inviato Warner di recente e poi abbiamo la tazza di MP e la tazza del Macusa, sempre di MP. E poi qui abbiamo un po' di libri come Gli Animali Fantastici Illustrato e i primi tre volumi illustrati da Jim Kay. Andando ancora giù di un altro piano, ecco che abbiamo tutti i libri di Panini Comics, sono tantissimi, il libro delle bacchette, il libro delle creature, dei personaggi, dei luoghi, dalla pagina allo schermo, abbiamo la magia del film, il libro pop-up, un altro libro pop-up qui, abbiamo le quattro versioni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, un viaggio attraverso la storia della magia di Salani, e poi abbiamo sempre da Panini Comics, Schermi Incantati 1, 2 e 3, l'arte di Harry Potter, il libro ultimo uscito su Diagonalli che vi ho mostrato di recente, quello sulle arti oscure, il tacquino di Newt Scamander e poi quelli di HarperCollins su Animali Fantastici, la magia del film, la valigia di Newt Scamander e la creazione artistica del film. E poi qui dentro invece abbiamo il mio mega volume delle fiabe di Bedelbardo in versione Collectors Edition che vi ho mostrato in un video che trovate sempre nelle schede. E poi infine stavo per dimenticare tutti i 5 star che mi sono stati inviati da MP ma che ancora non hanno trovato una casa all'interno della mia collezione, ma presto la troveranno. E con questo ragazzi direi che è davvero tutto per questa stagione, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e di aver accontentato tutti quelli che me lo chiedevano insistentemente ormai da mesi. Questa è la mia collezione aggiornata ma ci sono tantissimi altri pacchi in arrivo, ho già altri pacchi messi da parte con roba potteriana come ad esempio i Brickheads di Lego e tante altre chicche che ragazzi vedremo assieme a settembre. Io vi chiedo di condividere questo video con i vostri amici, lasciate un mi piace, commentare, fatemi sapere tutto quello che vi passa per la testa, sono qui per rispondere e per chiacchierare. Io ragazzi resterò comunque molto attivo su Instagram, tra qualche giorno partirò per Berlino, non so se questo video uscirà martedì o giovedì, nel caso uscisse giovedì domani partirò per Berlino. E quindi già da domani troverete le storie a tema Berlino. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per l'affetto, è stato davvero un anno molto molto importante, abbiamo superato i 10.000 iscritti quest'anno, un traguardo che mi ero prefissato e che mi avete aiutato a raggiungere, sono davvero contentissimo della community che si è creata attorno a questo canale, sono davvero super contento di tutti i traguardi che mi avete aiutato a raggiungere, sono riuscito a fare collaborazioni con tantissime aziende, e tutto questo lo devo solo ed esclusivamente a voi. Quindi ragazzi, grazie, grazie mille dal profondo del mio cuore e io vi do appuntamento a settembre con tante altre novità. Ciao!